oggi parlo di materiali artistici in particolare mi soffermerò su tutti i materiali che possono essere utilizzati per fare delle mascherature salve io sono maria cristina sono un architetto e sono un maestro d'arte questo è il canale archidrim un canale che si occupa di disegno lavoro e in particolare del lavoro dell'architetto eccoci sul piano di lavoro utilizzerò degli acquarelli questi in particolare sono dei puretake una tavolozza dove miscelare il colore e della carta io sto usando semplicemente della carta di cellulosa ovviamente il pennello ma prima di tutto vi voglio dire che cos'è una mascheratura in pratica quando si dipinge soprattutto quando si utilizza l'acquarello bisogna ricordarsi di lasciare in bianco le parti di un'illustrazione di un dipinto che non vanno colorate molto spesso sono talmente tante le parti di un dipinto in bianco che uno corre il rischio di passarci con il pennello sopra e di rovinare tutto il lavoro se serve il bianco assoluto è meglio utilizzare un liquido di mascheratura diciamo che toglie un po di stress soprattutto se si disegna se si dipinge molto voglio andare veloce sono diversi il più noto è questo ve lo scegherò è un fluido mascherante che può essere utilizzato utilizzando un pennello che non si ha più intenzione di riutilizzare perché vi dico che in generale le maschere per l'acquarello non vanno via più dal dai pennelli ho sentito alcuni che dicevano che potevano essere tolti da dai pennelli utilizzando la varicchina l'ammoniaca e altre cose ci ho provato non fatelo non va via con l'ammoniaca purtroppo è meglio utilizzare uno strumento dedicato ogni volta che si utilizza questo fluido io in particolare ho preso quello della windsor e newton deve essere come come ho fatto finora agitato perché una volta aperto si fa diciamo uno strato superiore superficiale molto più denso e quindi va va scosso prima dell'utilizzo vi faccio vedere rapidamente come si utilizza è un prodotto con un odore molto persistente devo dire la verità sa effettivamente di ammoniaca un altro strumento che si può utilizzare per passare il liquido di mascheratura e questo è un tiraline che serve non solo per non rovinare un pennello ma anche per tirare delle linee dritte con liquido di mascheratura questo può essere molto molto utile se si vuole fare un paesaggio dove ci sono delle forme geometriche nette che può essere per esempio un edificio che non si ha voglia non sia il tempo non sia la pazienza o magari strumenti adatti per farlo a pennello e si vuole andare sul sicuro e utilizzare un liquido di mascheratura vi faccio vedere si vedrà ben poco mentre lo lo passo è molto difficile soprattutto perché questo mio tira linee devo dire che non è un granché non è molto appuntito però poi che si deve fare una volta passato il liquido di mascheratura bisogna aspettare che asciughi perché crea una pellicola praticamente plastica dove anche se si va con il pennello su questa linea tracciata con liquido di mascheratura non va a impregnare di colore in questi punti il foglio lasciando quindi tutto il tratto bianco bisogna essere sicuri che prima di passare il colore si asciughi quindi ho fretta di andare avanti mentre si asciuga il liquido vi faccio vedere anche altri strumenti che possono essere utilizzati per mascherare uno degli strumenti più classici che però è difficile da utilizzare all'interno di un'illustrazione è proprio lo scotch carta magari all'interno dell'illustrazione non viene tanto utilizzato perché bisogna stare lì a tagliuzzare però per ogni dipinto se si vuole lasciare un bordino se si vuole fissare il foglio a un piano questo tipo di scotch non fa passare il colore quindi ti dà sia la possibilità di fare una cornicetta attorno all'illustrazione sia se uno ha pazienza volendo potrebbe ritagliare dei pezzettini di scotch carta per non far passare il colore quindi ora lo attacco magari li provo tutti insieme una volta che si sono asciugati un altro tipo di maschera diciamo liquido di mascheratura è utilizzato e questo devo dire lo preferisco lo trovate in penna è questo lo preferisco perché comodo da portare in giro devo dire la verità il liquido di mascheratura questo che avete appena visto della windsor e newton venduto diciamo in boccetta non mi ci trovo un granchier invece questo qua lo trovo molto più pratico vi faccio vedere una penna semplicemente vedete la punta assomiglia la punta dell'uniposcar infatti va premuto per far uscire il liquido e via e utilizzo intanto caramente il mio il mio righello nella mia squadretta per farvi vedere quanto quanto è più comodo questo anche se non è molto preciso se avete un ottimo tiraline devo dire che forse il tiraline potrebbe andare meglio lo trovo comunque più comodo anche perché lo vedete da voi che il liquido di mascheratura in questo caso è anche colorato vero è che esistono in commercio delle versioni di boccette con il liquido di mascheratura colorato ma io preferisco sempre questo appena è troppo comodo vado avanti un altro metodo molto efficace per la mascheratura è utilizzare una semplice candela vabbè a me non va di tagliarla bella voglio far vedere semplicemente come si strofina su una superficie di carta e e poi si passa il colore non so se sto facendo un disastro ora vi inizio a far vedere questo effetto della cera perché se no non finiamo mai non finiamo mai la cera ovviamente non ha bisogno che si asciughi però al difetto vedete al difetto che non si vede bene dove è stata passata la cera quindi essendo completamente in colore è difficile ricordarsi dove si è passato in più è un po imprecisa che non aiuta altra cosa da ricordare riguardo la cera è il fatto che una volta messa la cera non può essere rimossa e che significa che se per esempio alla fine di un'illustrazione di un quadro si nota che quel bianco messo lì utilizzando la candela è troppo forte diciamo il contrasto di colore non è possibile togliere la cera e dipingersi sopra quindi è una cosa irreversibile mentre il liquido di mascheratura invece è reversibile in generale vi faccio vedere il frattempo la penna si è asciugata questa questo segno blu ecco qua niente io amo la penna amo la penna vediamo se questo e questo si è asciugato vado avanti perché non voglio video che durino trent'anni fatto tutto quello che non si doveva fare ha sporcato un po il colore ecco qua li abbiamo provati tutti quindi questo qua è il liquido di mascheratura questo della windsor e newton passato con il tiraline questo qua e lo scotch non l'abbiamo ancora provato troviamolo subito dello scotch bisogna a scegliere andare un po attentativi devo dire la verità perché non sempre lo scotch va via senza tirarsi la carta e ogni volta mi piange il cuore quando si strappa un dipinto ovviamente bisogna aspettare in tutti i casi e non solo dello scotch aspettare che si asciughi tutto lo strato di pittura per poi togliere il liquido di mascheratura o lo scotch eccezione fatta ovviamente per la cera che non può essere rimossa in nessuna maniera passiamo all'ultimo metodo quello meno visto devo dire la verità io partecipato un corso di pittura ne parlavano effettivamente efficace si può utilizzare anche la gomma pane come mascherante per ovviamente piccole parti però come vedete non è molto facile e poi non è di certo uno strumento di precisione ci vuole un po di tempo però se per esempio si prendono pezzettini così piccoli si attaccano con una santa pazienza sul foglio così e si vuole fare un panorama con il mare mettendoci tre anni magari si riesce a fare ora vi faccio vedere velocemente come si comporta la gomma pane non è il mio metodo preferito devo dire la verità e niente vi faccio vedere però anche questo è efficace ovviamente perdete la gomma pane quella non la potete più riutilizzare quel pezzetto che che utilizzate per fare la mascheratura ok nel frattempo vedo che un po di colori si dovrebbero essere asciugati e tolgo il liquido di mascheratura ecco qua si è asciugato è piano piano con il dito si può procedere a togliere il liquido di mascheratura potevo aspettare un po di più certamente che sì ma niente volevo andare avanti con il video ecco qua la linea è rimasta in bianco vediamo qua se posso togliere quest'altro liquido di mascheratura ecco qua devo dire che come qualità e anche come resa il liquido di mascheratura della windsor e newton è ovviamente migliore di questo liquido a penna che è molto più impreciso io lo trovo molto comodo soprattutto quando si sta all'aria aperta però pro e contro ecco vediamo se riesco a togliere anche lo scotch ecco anche qui la mascheratura è andata abbastanza bene qui ancora si deve asciugare con la gomma pane però voglio fare piano piano ecco qua già si vede la funzione funziona funziona dovevo aspettare un po più di tempo però la pazienza è in più il tempo latitano vi voglio far vedere una piccola esercitazione fatta con liquido di mascheratura ecco qua questo è stato fatto tutto a pennello con il liquido questo qua della windsor e newton come vedete le onde sono venute bianchissime voglio provare il liquido di mascheratura anche con altre tecniche pittoriche la prima tecnica che voglio utilizzare e questa acqua della wash barra tempera voglio vedere se la maschera può essere utilizzata anche con la wash devo dire è un esperimento che mi va di fare però temo che non sia una buona idea perché la wash è una tecnica che rinviene con l'acqua quindi una volta essiccato se vado a a toccare il liquido di mascheratura per grattarlo o il sospetto che vada via tutto il colore quindi di certo non lo metto in purezza ma lo riempio d'acqua per avere più possibilità ecco qua voglio fare un angolino anche utilizzando il colore puro perché noi ci dobbiamo spingere verso il peggio per esercitarci ecco qua passo un altro tipo di colore e poi traiamo le conclusioni tutte insieme così belli svelti andiamo belli veloci rapidi vorrei provare il liquido di mascheratura con i marker che secondo me potrebbero darci alcune gioie sono marker indelebili e non vedo perché dovrebbero soffrire al pensiero di essere diciamo grattati e quindi secondo me una volta che si passa questo colore non dovrebbe subire chissà quale danno passarci il dito per togliere il liquido di mascheratura andiamo avanti e voglio utilizzare questi che sono gli inchiostri acquerellabili che secondo me pure in questo caso non ci dovrebbero essere problemi ma vediamo tutto alla fine lo faccio sia così sia e questo mi sembra più problematico passandolo come se fosse ecco infatti già lo boccio non si può possono usare i pastelli con il liquido di mascheratura perché se ne va non so se avete visto ma si è grattata si è grattata via si è grattato via il liquido di mascheratura quindi vi dico di no già non va bene non si può utilizzare assolutamente con i pastelli secchi di qualsiasi tipo però io sono capa tosta e quindi voglio provarlo anche con non sono sicura di fare questa cosa va bene proviamo velocemente voglio provare a usare i pastelli a olio questi sono la versione acquerellabile e voglio provare secondo me bisogna andare molto leggeri qualcosa si può fare ma bisogna andare molto leggeri secondo me non conviene molto però siamo negli esperimenti continuiamo gli esperimenti l'ultimo che pure secondo me non è una buona idea è provare i pastelli a cera anche questi sono acquerellabili e li passo qui questi sono ancora più duri no ragazzi i pastelli a cera guardate assolutamente no anche passati leggerissimi se ne va via tutto al liquido di mascheratura quindi assolutamente no non utilizzate assolutamente con il liquido di mascheratura ora devo aspettare che si asciughino sono molto curiosa se ottengo un buon risultato con le guache mentre si asciuga mi è venuta in mente che forse un paio di strumenti più efficaci per stendere il liquido di mascheratura questo qua forma liquida ce li ho e secondo me sono anche molto meglio dell'utilizzo di un pennello che poi andrebbe buttato al massimo riutilizzato per altre applicazioni del liquido di mascheratura ma devo dire perdendo moltissimo di efficienza ecco allora i due strumenti sono il bulino che questo strumentino qua dove ci sono le palline diciamo una punta di ferro arrotondata con una pallina di diverse dimensioni qua oppure il pennello di silicone a punta di silicone che questo qua io ne ho di diverse forme grandezze misure ho preso il primo e voglio vedere come va devo dire che forse forse andrà sicuramente bene c'è un'altra soddisfazione a si vedete che bello ecco qui bellissimo promosso 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 costano anche molto poco sono riutilizzabili all'infinito anche con il liquido di mascheratura e quindi fa piacere che faccio video a questo punto per ricordarmi le cose che ho l'attrezzatura però ma anche per risolvere problemi vediamo anche con il bulino devo dire che se si usa una buona quantità di liquido di mascheratura forse è meglio versarlo dentro con contenitore più piccolo che può essere un tappo perché vedete un po tutti quanti gli strumenti si rovinano e anche questo mi piace questi due strumenti bulino e pennello con la punta di silicone stra promossi e stra consigliati allora inizi a vedere mentre si asciuga la tempera inizia a vedere come si sono comportati i marker sul liquido di mascheratura piano piano tolgo e come immaginavo viene via perfettamente quindi se per un motivo un altro avete bisogno di utilizzare il liquido di mascheratura sui marker andate sereni perché non c'è nessun problema questo penso che valga anche per gli inchiostri questi inchiostri qua sono solidi però vi dico che gli inchiostri solidi usati come diciamo come dei gessetti non vanno bene invece acquerellati va vanno direi proprio benissimo anche qui funziona molto bene assolutamente no qualsiasi tipo di pastello secco quindi andrei sui pastelli a olio però molta paura perché il pastello a olio si può sfumare anche con il dito quindi non so mi sembra un brutta idea usare il liquido di mascheratura per fare questa cosa va bene e infatti va via troppo colore e poi in ultimo comunque si sporca la parte dove si è andati con il liquido per mascheratura per cui direi proprio bocciati pastelli a cera in qualsiasi forma assolutamente da sconsigliare proviamo con la tempera guascio piano piano perché ho paura che si rovini tutto ma aspettavo peggio ma aspettavo peggio certo bisogna avere le mani molto molto pulite molto molto pulite perché un po si è sporcato ovviamente dato che avevo usato già le dita per fare questo lavoro sui pastelli a olio pastelli a cera però devo dire che sulle tempere o sulle guascio non è malissimo non è malissimo liquido di mascheratura funziona conoscevate questi prodotti spero che il video vi sia piaciuto se siete arrivati fino a questo punto io vi ringrazio infinitamente e vi chiedo di sostenere il canale iscrivendovi attivando la campanellina delle notifiche commentando sotto questo video e noi ci vediamo al prossimo video ciao